Nell'unico piatto La sera i miei bisnonni intingevano il pane nell'unico piatto dell'acquasale. Sentivano il sapore di terra che dopo il lavoro dei campi era rimasto tra i denti e l'odore della pecora, che al ritorno dal pascolo era mancata alla conta. Poi si addormentavano con l'orecchio sul braccio. Commento L'acquasale era il cibo della forma coscienza degli individui incarnati nel periodo storico in cui vigevano le classi sociali. Chi intuisce che tutto è uno si rallegra per la consumazione degli io di gruppo, della separatività delle classi sociali, che nei secoli hanno prodotto tanto dolore ma anche, in ossequio alla legge, tanta evoluzione. Grazie. 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 Grazie.